Mussolini! Chi? Lili Gruber? Me la passi? Ah, Lili Gruber, salve, sono Benito Mussolini, ti ho fatto chiamare io. Tutto bene? Bene, bene, ti ho fatto chiamare per consegnarti personalmente le veline per la trasmissione di quest'anno, scritte di mio pugno. Come sai, ahimè, la situazione è drammatica. Il candidato favorito di Dragon Ball, il Cavaliere di Latta, il leader pelatino della pseudo-sinistra, è stato duramente sconfitto. Egli tornerà a Parigi, in esilio, a insegnare un corso universitario. Sì, sì, un corso universitario aperto a soli studenti sordomuti, non di lingua francese, che sarà condotto col linguaggio dei segni. Io, leader, partito. Come distruggere un partito in 30 giorni, questo è il titolo. Ah, tre iscritti già, eh, voglio dire, va proprio, eh, ma ci mancherebbe altro.